Io sono Stefano di Monferrato e vi do il benvenuto nella sala d'armi del castello del Monferrato dal titolo I Marchesi di Monferrato di Ferrovestiti. È un'esposizione ovviamente del periodo storico che va dal XII al XV secolo dove le famiglie, prima l'eramica e poi quella paleologa, governarono il Monferrato. La mostra porta tutte ricostruzioni, dagli abbigliamenti, dalle spade, tutto ricostruito ovviamente. Noi pratichiamo anche le rievocazioni storiche, quindi le armature, come vi vedete tutto addosso, sono le armature che utilizziamo anche nelle rievocazioni. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere anche la cavalleria che visse anche nel Monferrato. In particolare la figura del cavaliere, il suo ideale, la sua etica, perché è qualcosa che affascina ancora oggi. Quando si parla di cavaliere, ancora oggi evoca un sentimento. La cavalleria quindi non è morta con l'ideale, anzi ha scavalcato tutte le epoche ed è arrivata fino a noi con quell'ideale proprio di uomo giusto. La cortesia, la gentilezza, il coraggio, ecco, sono doti queste che già nel XIII secolo, nel XII secolo, ben sapevano il significato e ancora oggi ha questo valore per noi. Quindi quello che noi ricostruiamo è proprio rivolto alla riscoperta, se vogliamo, di quell'uomo di ferro vestito che ancora oggi sa affascinare le epoche. Un personaggio che ormai possiamo dire senza epoche e senza tempo. Il suo messaggio è arrivato a noi e andrà avanti. Queste spade sono tutte ricostruzioni prodotte da armaioli italiani, i quali, lavorando nei musei, sono in grado di riprodurle in modo fedele e originale a quelle dell'epoca. Queste sono spade che noi utilizziamo nelle ricostruzioni dei combattimenti, praticando appunto le armi della scherma medievale. All'interno di questa stanza abbiamo ricostruito una tenda di un cavaliere banderese, ovvero un cavaliere portabandiera. L'interno della tenda è ricostruito tutto l'arredo che accompagnava il cavaliere durante le sue lunghe campagne militari, quindi dagli oggetti per il riposo, agli oggetti per l'intrattenimento e nel momento del raccoglimento spirituale, quindi una Bibbia e un luogo dove poter pregare. La fede comunque era sempre un elemento fondamentale della cavalleria del passato. Stefano di Monferrato, i miei fratelli d'arme dell'Ordine della Lancia, vi aspettano allora al Castello del Monferrato, presso il Torrione, per la mostra I Marchesi di Monferrato di Ferrovestiti.